Caccia nei boschi romeni. I sedentari della gastronomia affermano che è molto più comodo andare a caccia di lepri nei negozi del centro, anche perché queste zannate bestiole corrono davvero come lepri e spesso riescono a cavarsela senza nemmeno una scalfittura. Ma c'è sempre qualcuno con la mira facile tra i cacciatori e allora la vita diventa difficile per la lepre. Un colpo maestro e la cena per questa sera è assicurata. Cacciatore e Selvagina si guardano in cagnesco. Oh, se il fucile lo avessi io, pensa la lepre. I carnieri sono pieni e per una settimana i gatti romeni potranno dormire tranquilli, non finiranno in salmì.